ciao ragazzi io sono nicotine sono ritornato con un nuovo video nuova sfida remontata quindi mi raccomando iscrivetevi lasciate un mi piace attivate la campanella per stare sempre aggiornati con i miei video e detto questo possiamo iniziare allora questa sfida purtroppo voi non la potete fare perché giustamente non ci arrivate mai all'intesa io purtroppo dovuto usare questi giocatori voi fate fatelo con i giocatori vostri così potete stare tranquilli ho usato un paio di giocatori con overal molto alto perché come ho detto non ho più giocatori non vedo l'ora di aprire qualche vacchietto per poter trovare qualcosa che posso utilizzare giustamente quindi ragazzi voi non la fate così questa sfida come l'ho fatto io io più o meno sono arrivato 85 questo perché non lo trovate mai perché lui è una sinistra o alla destra non mi ricordo io l'ho fatto diventare td per alzarmi un po di atti di per alzarmi un po di intensa però è difficilissima questa sfida se non ai giocatori veramente difficile ok abbiamo fatto anche questa è niente ragazzi e io vi lascio qui e ci vediamo con un prossimo